benvenuti alla puntata abbiamo ospite appunto dallas e a questo punto la prima domanda più spontanea più semplice se dovessi descrivere oggi perché artisticamente non ti conosciamo ma se dovessi descrivere oggi chi è dallas come lo descriveresti perché dunque un signore oramai di 55 anni giovane di cervello musicista essenzialmente a tempo pieno da un sacco di anni un grosso rallentamento ovviamente dal covid in poi però teniamo duro e quindi mi occupo essenzialmente di produzioni musicali in studio adesso dal covid in poi ho un po abbandonato il live e le altre cose che organizzavo avevo una scuola di musica organizzavo festival eventi e poi dopo appunto questa crisi la pandemia e tutto mi sono ricentrato sullo studio di registrazione a questo punto parliamo dell'ultimo lavoro è un viaggio musicale è una rotta musicale però io partirei prima dall'ultimo brano però ci racconti perché l'ultimo brano è un pochettino un remake di un periodo nostro atavico televisivo che è spazio nel 1999 come mai poi questo brano ma allora io sono un grande appassionato di fantascienza fin da quando ero bambino pensa che mio papà quando avevo 34 anni tirava fuori il vecchio atlante geografico che aveva in biblioteca e guardavamo le figure dei pianeti e quindi delle galassie queste cose qua io mi ero appassionato delle immagini perché non leggevo ancora e questa passione poi è cresciuta fino adesso quindi sono un grande amante della fantascienza soprattutto la fantascienza vintage quell'anni settanta soprattutto e ancora di più quella inglese cioè le serie che uscivano fuori dalla bbc in inghilterra in quel periodo spazio 1999 ovviamente all'epoca era una serie che ha fatto il botto in italia era anche coprodotta dalla rai figurati quindi conosciutissima e per quanto riguarda appunto l'ultimo brano dell'album la versione italiana della sigla di chiusura della serie era un brano degli oliver onions che chi è più giovane non li conosce però chi insomma chi ha una certa età come noi sa che erano un gruppo un duo più che altro che scriveva quasi tutte le colonne sonore delle serie tv del periodo e io molto appassionato da queste serie ho fatto una versione dockers guild insomma è cambiata parecchio da quella originale e l'abbiamo messa come bonus track alla fine dell'album quindi eccola lì allora a questo punto parliamo di questo questo disco intanto ricordiamo il titolo del disco dunque il disco ha dei tutti i dischi dei dockers guild hanno dei nomi molto lunghi perché tutta la serie di dischi è essenzialmente concepita come una serie televisiva quindi ogni stagione ha il suo titolo sono cinque stagioni e fra le cinque stagioni ci sono quattro episodi intermediari chiamati books che raccontano un dettaglio in più rispetto alla storia vista dal punto di vista di vari personaggi questo ultimo disco si chiama the mystic technocracy che è la storia completa season 2 cioè la seconda stagione televisiva e poi the age of entropy l'età dell'entropia cioè l'età del caos che sono i tempi che stiamo vivendo oggi nella realtà proprio è un disco che è un viaggio musicale di tanti generi perché poi si sente il piano si sente il rock si sente cioè è elettronic rock possiamo dire un viaggio musicale come nascono le ispirazioni di questi brani soprattutto poi come si evolvono perché poi uno pensa un brano poi in realtà quando lo evolve ha una sua vita propria e naviga e cresce in modo diverso rispetto a quello che si pensa inizialmente sì sì assolutamente sì poi guarda io sono stato molto il nome tecnico del progetto è prog metal space opera quindi è un'opera metal tipo un'opera rock quindi racconta una storia con dei personaggi ed è nel filone dello space della space opera quindi roba tipo guerre stellari flash gordon queste cose qua io poi sono stato molto influenzato da gruppi anni 70 tipo davy bowie queen eccetera che hanno fatto della varietà stilistica un po una bandiera no quindi sono un po l'opposto degli acdc che fanno lo stesso album da 40 anni praticamente e quindi i miei album riflettono un po questa filosofia qua quindi sì è prog metal c'è molto metal c'è molto prog però come hai detto giustamente tu io sono anche molto influenzato dall'elettronica vecchia quindi jean michel jar evangelis e anche dalla new wave anni 80 nel mio gruppo preferito non rock sono i duranduran per esempio quindi tutte queste influenze si sono mischiate all'interno di un grosso calderone e allora trovi dal brano pop abbiamo fatto per esempio una cover dei rockets vecchio gruppo argentato ogni 70 famosissimo in italia abbiamo però fatto anche una cover degli yes che sono tutto l'opposto essendo un gruppo prog e poi ci sono ovviamente la maggior parte dei brani sono quelli scritti da me originali che possono andare dalla ballad romantica acustica eccetera delle mega suite in più movimenti tipo appunto il penultimo brano dell'album che ha una suite di quasi 20 minuti divisa in cinque movimenti diversi quindi c'è veramente un ampio spettro di scelte nella realizzazione dei brani nascono questa è una domanda ultimamente che ti hanno posto nascono nasce prima musica nascono le parole oppure nascono insieme e poi crescono insieme allora io sono prima di tutto musicista quindi sicuramente nasce al 99 per cento delle volte nasce prima la musica poi in base all'atmosfera diciamo di quel brano lì decido se quel brano adatto a raccontare una parte della storia oppure un'altra e in base alla collocazione che metto poi per io scrivo prima la trama in prosa diciamo poi quel brano lì a quel punto lo uso e ci scrivo sopra un testo che funzioni con quella trama particolare e questo gioco qua lo faccio anche con le cover perché non metto delle cover a caso ma metto delle cover che che mi hanno appassionato che mi hanno ispirato assolutamente ma che poi a livello di testo sono attinenti alla storia che ho scritto io e questa è una vera sfida perché devi trovare il brano che ti piace e il cui testo funziona con la storia originale che viene da me invece quindi è un giochino che faccio molto volentieri che mi diverte molto nella stesura dei testi è più complicato scrivere testi un po' descrittivi oppure è più facile sintetizzarli come nell'inglese a volte si sintetizza e renderli quasi crudi nel nella descrizione ma io ho un approccio un po strano i testi forse influenzato molto dagli es altri gruppi che sperimentavano molto sul lato appunto del del testo ci sono due tipi di testi nelle mie canzoni ci sono dei testi narrativi dove ovviamente lì simili all'opera quindi simile all'ario al recitativo dell'opera che raccontano una storia o fanno procedere gli eventi sia dal punto di vista del narratore sia da quello dei personaggi e questi sono testi un po più lineari diciamo seguono la storia e poi ho dei testi un po più cerebrali che sono più forse non dico neanche analitici ma più metafisici forse che analizzano una situazione per esempio c'è un brano che è una ballad molto romantica nell'album che si chiama the arrow la freccia che sembra una storia d'amore e poi in realtà quando leggi molto molto bene il testo parla appunto dell'entropia e della freccia del tempo che sono dei concetti diciamo di fisica di diastrofisica diciamo abbastanza coinvolti e quindi questo è il mio altro lato un po più diciamo cerebrale analitico in questo brano ci sono tante collaborazioni come è stato facile o difficile riuscire a unire e sfondere un pochettino tutte queste collaborazioni che ti hanno permesso poi di raggiungere a questo obiettivo che questo lavoro nuovo si allora a livello organizzativo ovviamente molto complicato perché si lavora con artisti sia italiani che internazionali che abitano appunto in tutto il mondo quindi bisogna coordinare molto bene tutto quanto bisogna preparare dei demo che siano fatti veramente molto molto bene in maniera che poi loro riescano a capire cosa devono fare senza improvvisare che poi viene un pasticcio quindi il lavoro di preproduzione di preparazione fondamentale per quanto riguarda invece i contatti sono stato veramente molto fortunato perché io non ho praticamente mai avuto un artista che mi abbia detto no e nel 90 per cento dei casi che sono partito da contatti a freddo nel senso che ho scritto una mail o magari mi hanno dato un messaggio su messa scusa su facebook quando c'era ancora myspace usavo quello e alcuni artisti ma sono proprio tre o quattro mi hanno detto di no perché o erano in tour e me o erano altri impegni ma se no tutti quanti sono stati credo spero molto colpiti dalla insomma dalla qualità dei demo della musica hanno assolutamente accettato subito quindi sono veramente molto contento molto orgoglioso ma anche molto insomma con modestia diciamo sorpreso da questo entusiasmo che mi ha sempre circondato quindi sono molto fortunato hai detto prima suonare dal vivo noi a questo punto poi andiamo un pochino una domanda sull'emozionale qual è la sensazione che si prova salendo sul palco poi quando si apre la quarta platea c'è un pubblico inizialmente silenzioso a volte non si vede perché c'è le luci ci sono tanti però tu senti quel silenzio poi diventa un po' brusio ma poi diventa canzoni diventano voci diventano risa diventano pianti e vedere queste persone che sotto che ti mandano quell'energia qual è sensazioni proprio quando e allora io suono dal vivo in tanti altri progetti non solo dockers guild da quando avevo sette otto anni facevo i primi concertini saggi di musica classica già da bambino e il live ovviamente è una dimensione bellissima perché lì sei proprio a contatto diretto con i fans con gli amici con i colleghi e ti danno una carica ovviamente che il lavoro in studio insomma non è la stessa cosa per quanto riguarda nello specifico il progetto dockers guild noi abbiamo suonato sempre pochissimo dal vivo perché essendo un progetto che ha così tanti ospiti e tutto puoi immaginare che l'organizzazione è veramente complessa i costi sono anche abbastanza insomma complicati questo detto abbiamo fatto più o meno per ogni album una breve serie di live non neanche una tournée ma un paio di live normalmente abbinati a eventi importanti dei festival dei concorsi degli eventi speciali e la cosa sorprendente parte l'entusiasmo dei musicisti che vengono sempre volentieri a lavorare con me e a suonare le mie canzoni e che c'è sempre stato nonostante non siamo poi tutto questo gruppo non abbiamo una fama enorme siamo un gruppo di nicchia così dell'underground anche se insomma un certo livello livello di stampa eccetera ci siamo arrivati però a livello di live ovviamente non facendo tournée enormi non è che abbiamo un seguito ma non c'è mai stata una sala vuota abbiamo sempre fatto il pienone e soprattutto la cosa più bella è che sorprendentemente questa gente qua canta le mie canzoni o quelle scritte dai miei colleghi che non vengono praticamente mai sentite quindi è una grossa soddisfazione è proprio bello perché poi vedi veramente il risultato del tuo lavoro la gente che si emoziona che canta i tuoi testi che chiede di sentire altre canzoni una meraviglia dovremmo farlo molto più spesso spero di sì speriamo che il covid ci permetta a questo punto di riprendere una vita live un pochino più interessante e una speranza di comunque spingere di più sui live in futuro vedremo e invece le domande che ti pongono le persone che poi incontri finito il concerto incontri ti pongono domande sono domande particolari a volte domande sicuramente complimenti ti chiedono il selfie però ti è capitato domande che in realtà poi davanti hai avuto una persona emozionata tanto tale che la domanda in realtà non te l'ha fatta ma tu gli hai dato una risposta che le hai resi comunque molto felici e dal suo dallo sguardo hai capito che erano contenti di quello che gli hai detto che gli ha raccontato si succede spesso direi che non ti fanno poi così tante domande vengono ovviamente gli amici vengono senza problemi magari ti fanno anche la critica perché è costruttiva che ti può aiutare per il live successivo eccetera però vengono anche i fans a ringraziarti loro più che altro dello spettacolo e ti dicono di solito il pezzo che penso preferito che hanno cantato con più con più fervore con più entusiasmo eccetera veramente non saprei neanche cosa dirti cosa rispondo più che grazie non insomma non mi sento di dare grosse risposte filosofiche dopo un live dove poi l'adrenalina è carica al massimo quindi si si lavora molto appunto a questo livello empatico più che a livello di logica e è un momento bellissimo e vedere la gioia dei fans che poi magari ti comprano il cd o dopo ti seguono sai sui social sui canali youtube e altri non apprezzo è proprio bellissimo avere un brando che poi i ragazzi si portano indietro ma le persone si portano indietro eh che nella loro vita eh che moni guicciano sono tristi ospure sono allegri sanno il tuo brano qual è la tua sensazione quando ti accorgi che questo brano fa parte entra a far parte della vita di queste persone che ti ascoltano beh io credo che questa sia la insomma al di là di sesso droga e rock n roll che erano i vecchi motivi per i quali si faceva musica penso che questo sia proprio il motivo principale o comunque la soddisfazione più bella perché entri veramente apri uno spiraglio e forse cambia anche qualcosina senza averlo neanche voluto hai sei partito nel tuo nel tuo salotto dove sono adesso col pianoforte a scrivere quattro accordi messi in croce poi due anni dopo è questa canzone che gira per tutto il mondo è gente che ti scrive dall'Australia che ti scrive dall'America dalla Svezia da ovunque che ti ringrazia perché insomma questa canzone gli ha fatto passare un momento brutto eccetera eccetera questo è una meraviglia anche questa cioè la cosa bella della musica la musica che non risolve necessariamente tutto però aiuta a superare tante cose che la vita purtroppo ci tira addosso come è cambiato la musica secondo te come cambierà la musica perché musica ci sono tanti gruppi grossi dove si fa non si fa più prima non si fa il catalogo non si mette più i giovani campano con con i social vivono con i talent però in realtà questi musica indipendente ha difficoltà ancora crescere perché le grandi etichette poi fanno da padrona in alcune situazioni sì assolutamente sì diciamo che musicalmente siamo sicuramente in un periodo storico di crisi a tutti i livelli secondo me a livello creativo a livello non tanto perché mancano i geni gli artisti quelle persone di talento i musicisti quelli ci sono anzi ce ne sono molti di più rispetto a una volta ma non hanno molto le opportunità che c'erano magari 30 anni fa quindi perché oggi comunque non si prende il talento ma si prende la faccia la faccia il personaggio più che il talento che c'è dietro perché sono più facili anche da manipolare a livello di produzione quindi le grosse etichette lavorano su delle cose di questo tipo noi che siamo i dinosauri comunque perché siamo della vecchia guardia facciamo una musica che per vecchietti comunque non per il ragazzino e tutto quanto per noi non è facile c'è un mercato diciamo semi underground comunque oramai completamente indipendente che anche nel questo genere qua è molto molto fiorente perché il prog metal ha comunque una sua fan base che è molto molto leale quindi c'è il mercato c'è però anche molta più competizione molto più difficile emergere a livello di visibilità perché chiunque con un mac o con un computer può fare un album di livello professionale e quindi ci si spintola un po a gomitate per cercare di farsi spazio non è facile è un periodo un po così il covido ovviamente ha dato una ammazzata allucinante a tutto la crisi economica che è arrivata dopo anche e non che prima andasse poi così bene quindi insomma io spero spero in un miglioramento però onestamente non ho la palla di cristallo non ti so dire in che direzione ci muoveremo da qui a dieci anni ecco e c'è parlando il nuovo disco ritornando sul nuovo disco c'è qualche aneddoto particolare che ti ricordi più interessante più emozionante più divertente nella realizzazione di questo disco soprattutto tutti i brani ma allora la cosa che mi impressiona sempre di più e faccio solo un esempio perché abbiamo 18 artisti sull'album 18 special guest la metà dei quali vengono dall'estero e la metà dei quali invece sono proprio qua della mia zona e ne prendo proprio solo uno come esempio noi abbiamo una batteria straordinaria di venezia una batterista scusami straordinaria di venezia che si chiama helly o elisa montina molto conosciuta in quelle zone e lei oramai suona su tutti i miei album da diversi anni come hai potuto sentire non è musica semplice insomma sono non sono canzoni strofa ritornello ci sono delle strutture abbastanza apprese dal classico dalla sinfonia dalla sonata dalle forme complicate doppi pedali tempi dispari adesso non entro troppo nel tecnico comunque è roba tosta da suonare per tutti ma soprattutto per il batterista lei è batterista con la a quindi è una ragazza lei ti arriva nello studio e al mattino si monta la batteria un giorno dopo ha fatto tutto l'album 80 minuti di musica io sono sempre rimasto a bocca aperta da questa esperienza qua poi suona scalza per di più metal con scalza col doppio pedale tutti i casini del genere e io è il tecnico del suono che è un carissimo mio amico ogni volta ci guardiamo a bocca aperta perché non riusciamo a credere alle nostre orecchie ai nostri occhi lei fa una canzone una volta perfetta e poi te la rifà dieci volte perché non è contenta di una cosa che nessuno riesce a sentire tra ne lei ed è una figata pazzesca perché poi si sente sulla insomma sul cd si sente il lavoro di batteria veramente straordinario quindi questa è una cosa che mi piace sempre ricordare perché c'è un livello di professionalità in italia altissimo altissimo in questo genere qua ed è bello sottolinearlo secondo me oltre che avere un orecchio assoluto ricorda un pochettino il fatto di suonare scalzi il batterista dei death leopard quando ebbe l'incidente e quindi iniziò a suonare per poter sentire meglio gli strumenti e quindi suonava scalzi non usava le scarpe ecco assolutamente sì vedo che abbiamo un uomo di cultura qui oggi perché non tutti si ricordano dei death leopard che sono stati insomma hanno ribaltato la scena metal degli anni 80 vendendo milioni e milioni di dischi sì lui aveva perso un braccio a causa di un incidente in macchina a capodanno oltretutto e quando era in ospedale insomma praticamente ha cominciato a provare a usare i piedi quando era ancora nel letto e poco alla volta ha rimparato a suonare la batteria con i piedi invece che con le ma ha avuto un tecnico molto molto bravo che gli ha costruito una batteria apposta per poi andare in tournée usando solo un braccio e i due piedi e lui ancora nei death leopard oggi quindi tanto di cappello perché c'eva una forza di volontà e voglia di vivere veramente notevoli sì ma poi all'inizio utilizzava una batteria molto più elettronica adesso è tornato un pochettino sulla batteria classica e riesce a suonare tranquillamente anche perché poi la band l'ha aspettato con ansia hanno aspettato per poi l'album fu istiria che già doveva uscire immediatamente e poi attesero con tanti altri problemi death leopard però in quel caso lo attesero con ansia e i risultati hanno pagato poi nel tempo il cosa ci fai vedere intanto la copertina del disco perché lo vediamo dietro ma non si vede bene però di non avere troppi riflessi che si vedano a questo è l'ultimo disco la copertina di un artista svedese che si chiama beckston chiedo scusa che è veramente bravissimo ancora più bello il booklet interno che ha delle grafiche stupende e poi abbiamo fatto anche uno storybook che è stato venduto solo per i membri del crowdfunding cioè quelli che hanno finanziato l'album prima che uscisse che è un libro che racconta tutta la storia della mystic tecnocracy dal primo album a questo perché questo è il terzo album in realtà ce ne sono stati altri due prima sì abbiamo insomma appunto mi descrivi un povertino perché abbiamo visto una copertina dove il bianco e nero risalta molto poi c'è un poco colore che va ad analizzare quei punti particolari in cui probabilmente voi avete scelto bravissimo allora il bianco e nero è una scelta voluta è stata voluta fin dall'inizio io sono molto appassionato di film del periodo anni 20 tedesco dell'espressionismo tedesco quindi anche film horror tipo non sferatu tipo il laboratorio del dottor caligari queste cose qua molto particolari molto surreali c'è un angoscia in questi video molto particolare che a me piace e ho voluto trasmettere anche nel mio progetto quindi è tutto studiato in quello stile lì sia le copertine dei dischi anche ovviamente le foto le grafiche ma soprattutto i video che abbiamo girato per questo ultimo album che sono tutti in bianco e nero sono ben 12 quindi sulle 17 canzoni dell'album abbiamo 12 canzoni accompagnate da video che raccontano la storia dei vari episodi dell'album e quindi abbiamo veramente tutto un universo fatto con con quel diciamo quell'ottica lì quella visione lì eh tu hai citato prima già mi c'è il jar nei vostri pochi live di questo di questo stile di musica eh hai detto oltre ai video c'è un'attività eh luci effetti eh po stile già mi c'è da far sviluppare un concerto eh più emozionale non solo a livello musicale ma anche visivo dunque per gli spettacoli che abbiamo fatto diciamo che le luci ci siamo dovuti un po' adattare a quella che era la situazione in quel caso particolare perché se tu vai in tournée puoi portarti la tua produzione se invece fai due tre date per ogni album ti adatti alla situazione dell'occasione perché non puoi spendere quel tipo di soldi per uno spettacolo che poi usi una sola quindi da quel punto di vista lì eh direi non tanto dove invece abbiamo spinto molto il discorso e a livello di estetica e teatralità nel senso che comunque il gruppo si è sempre salito sul palco interpretando dei personaggi estratti dalle storie o comunque con dei costumi particolari che riflettono appunto la storia di quell'album lì in quel momento particolare quindi a livello teatrale siamo veramente molto insomma molto visivi ecco e se avessimo dimenticato qualcosa di particolare nella realizzazione di questo disco ma che poi andrà a migliorare nel tempo e poi abbiamo detto che non è il primo questa è la seconda sezione cioè la seconda stagione ci sarà la terza la quarta quindi che cosa abbiamo dimenticato se ci avessimo dimenticato qualcosa di particolare allora intanto il piano di battaglia globale è questo ci saranno nove album in tutto questo è il terzo se vivo abbastanza lungo li farò tutti però ho dei tempi abbastanza lunghi di produzione quindi spero di farcela sono appunto alternati fra le cinque stagioni principali che sono appunto come fossero cinque serie televisive intercalate appunto da quattro book che raccontano un dettaglio della storia o di un personaggio in particolare quindi nove album e poi la cosa secondo me nuova invece molto molto nuova che stiamo facendo e che abbiamo creato l'equivalente marvel di un universo cinematico un universo musicale perché abbiamo creato quello che chiamiamo il black swan universe che è l'universo black swan dove abbiamo già tre metal opera collegate tra di loro su vari punti della storia della trama eccetera e che vivono o convivono in un universo comune il primo è stato il vivaldi metal project del quale io ho scritto tutti i testi del primo album e poi il crono master project che è un'altra metal opera dove anche lì ho scritto tutti i testi dell'album e quindi è nato per caso perché io ho usato un personaggio del primo album dei docker's guild per iniziare il primo album del vivaldi metal project che è un personaggio che si chiama eternità e da lì c'è stato il collegamento fra le due metal opera e poi con con fabio rancati del crono master project che tra l'altro consiglio a tutti perché bellissimo musicalmente anche lì abbiamo fatto un collegamento e quindi tutto appartiene a questo universo poi ci saranno altre cose oltre a queste tre metal opera che collegheranno vari progetti varie situazioni eccetera quindi sta diventerà una cosa molto interessante e abbastanza vasta diciamo. E qual è il tuo rapporto? Tu hai visitato i fumetti, Marvel, qual è il tuo rapporto con i fumetti ma soprattutto qual è il tuo rapporto se ti dovesse proporre dei videogiochi o fare musica per serie animati? Per esempio in questo periodo ha molto le anime. Certo allora io sono molto appassionato di anime giapponesi da quando ero bambino sono molto appassionato di Marvel seguo anche abbastanza la DC devo dire che preferisco la roba vecchia rispetto alla roba nuova quindi colleziono molto robe che ho letto quando ero più piccolo quindi anni 70 anni 80 anche un po anni 90 seguo di meno le cose nuove che escono adesso però sì mi piace molto e sicuramente la Marvel ha avuto una grossa influenza sul sullo sviluppo del di questa serie qua di questo mio progetto ovviamente io ero anche molto appassionato da gruppi molto teatrali come i Kiss che sono essenzialmente dei supereroi Marvel in carne ed ossa quindi tutto questo è andato sicuramente a confluire in quello che faccio. Meno interessato non tanto perché non mi interessa ma perché non ho tempo ai videogiochi c'è stato un periodo quando ero più giovane dove ci giocavo parecchio però adesso non ho tempo di accendere un computer o una console per giocare diciamo che il mio limite massimo è Candy Crush guarda quindi oltre a quello anche se poi la musica nei videogiochi in questo periodo va molto perché i videogiochi stanno prendendo quanto potere economico gira il mondo e del disco c'è solo allora c'è versione digitale versione cd e c'è anche altre versioni oppure soltanto in questi due casi? Per adesso no c'è in programma almeno da parte mia poi bisognerà vedere la situazione economica più che altro questi album sono perfetti per essere stampati in vinile quindi insomma appena uscirà fuori l'opportunità farò tutto il possibile perché venga stampato questo qua ovviamente il nuovo in vinile ma anche perché vengano ristampati vecchi oltretutto sono album molto lunghi sono album che durano circa 80 minuti come sai il vinile dura più o meno 20 25 minuti per lato quindi sono proprio perfetti per essere stampati in doppio vinile mi piacerebbe fare anche dei cofanetti dove facciamo uscire i tre album perché il primo non si trova più è sold out oramai da diversi anni e quindi fare dei cofanetti con magari dei materiali bonus vorrei fare uscire anche tutti i video che abbiamo fatto fino adesso ce ne sono ovviamente tanti in formato blu ray o un cofanetto magari cd video sono delle combinazioni di questo tipo e magari anche col famoso storybook di cui ti parlavo dove uno può leggersi la storia mentre ascolta la musica tutte idee che spero di poter concretizzare in futuro allora noi abbiamo ovviamente moltissimi contatti quindi potete cercarci su tutti i social abbiamo facebook abbiamo instagram abbiamo twitter abbiamo youtube dockers guild quindi dockers con la po s apostrofo s e poi guild scritto guild il sito ufficiale che vi raccomando caldamente di visitare perché ha tutte le informazioni che non hanno gli altri social soprattutto la storia completa del progetto eccetera che è dockers guild punto com tutto tutto attaccato dockers guild senza apostrofi senza spazi ovviamente mi potete anche cercare personalmente su facebook da glass docker ce n'è solo uno al mondo purtroppo e quindi sono facile da trovare quindi questi sono i contatti e per quanto riguarda i saluti ringrazio tantissimo per la disponibilità per avermi avuto è stato bello chiacchierare con con voi è una realtà che non conoscevo tra l'altro conosciuto grazie a monica zei che ringrazio per averci messo in contatto e spero che seguirete ovviamente tutti agli ascoltatori anche voi del del programma e tutto il progetto e spero di vedervi là fuori da qualche parte magari live in un futuro non troppo lontano o o Grazie a tutti.